nei prossimi milioni di anni. Non piacerebbe anche a voi risvegliarvi ogni tanto e vedere come vanno le cose, con qualcuno che vi porti in giro e vi faccia vedere i cambiamenti spiegandovi quello che è successo, che cosa c'è di nuovo sulla Terra o nell'universo. A me piacerebbe moltissimo, ma per ora non si è ancora trovato il modo di farlo, quindi non ci rimane che seguire i nostri ritmi umani e consolarci col fatto che in fondo abbiamo già visto moltissimi cambiamenti e molti altri forse, molti di noi faranno in tempo a vederli. Quindi per oggi chiudiamo qui. Domani nona puntata del programma che ha per titolo La vita delle stelle. Le stelle infatti hanno che se un loro ciclo nascono, brillano e poi muoiono e morendo possono diventare degli oggetti molto strani, per esempio delle pulsar o dei buchi neri. A domani. Arrivederci. Non mangi la vera? Non posso. Perché? Tu piuttosto come fai a masticare così con la dentiera? Non è un problema, ma io uso una crema adesiva che si chiama cookie dent. Ebbene, prima di ogni pasto usare l'adesivo. Perché prima di ogni pasto? Basta metterlo una volta e resterà per ore. La crema adesiva cookie dent forma un sottile velo protettivo che fissa la dentiera a lungo e in ogni suo punto. Oh, finalmente! Vai provata, eh! Cookie dent, la sicurezza della stabilità. Una mamma deve badare a tutti in famiglia. Quando occorre, la sera, da Gutalax a chi ne ha bisogno. Gutalax, lassativa in gocce alla dose giusta per ognuno. Gutalax è inodoro e in sapore. Leggere attentamente le avvertenze. Barbie, nel suo nuovo bagno termale, tra mille bollicine. È fantastico, le bolle continuano a riprodursi. Barbie ne è entusiasta. Dopo il bagno termale, eccola all'istituto di bellezza. Un'accurata messa in piega, uno shampoo spumeggiante e le mesh all'ultima moda. Barbie, sei splendida! Ora è meravigliosa, con il bagno termale di Barbie e l'istituto di bellezza. Giochi baby, giochi la terra. La numero uno, la più bella, la più amata dagli italiani. Certo che gli applausi e il successo fanno sempre molto piacere, però bisogna meritarseli. Come Scavolini, che fa le cucine come le amiamo noi italiani. Belle, curate in ogni particolare, complete di tutto, con soluzioni adatte ad ogni famiglia e con materiali fatti per durare. Cucina Scavolini, la più amata dagli italiani. Giochi, la più amata dagli italiani. A presto. A presto.